Si è tenuta questa mattina presso la sala del Consiglio Comunale di Pesaro la presentazione della camminata finale del progetto Walk in Progress, dove lo sport incontra la salute per una camminata di 10 km dopo un allenamento di 10 settimane. Un'edizione speciale, quella di quest'anno, per un evento che nella sua quarta edizione abbraccia la cultura di Pesaro 2024 con ogni suo passo. L'obiettivo è quello di portare persone poco allenate o che non si allenano da tempo a poter svolgere la camminata dell'evento finale di 10 km, mediante un allenamento di 10 settimane. Quindi esiste la possibilità di allenare le persone che sono principianti oppure le persone che invece sono un po' più allenate e quindi seguono un programma un po' più avanzato. Quindi in queste 10 settimane noi ci siamo allenati, ci siamo incontrati ogni martedì al campo scuola, al mare e molti si sono anche allenati per conto loro e parteciperanno alla camminata finale. Quest'anno che cosa c'è di nuovo? C'è di nuovo che abbiamo scoperto che essendo Pesaro capitale della cultura il nostro percorso passa attraverso tutti i monumenti principali della città. E quindi abbiamo insieme al comune redatto una mappa interattiva che si trova sul sito dell'Aast, sul sito del comune, sul sito di Walk in Progress e quello di Movens, dove è possibile cliccare sui vari numeri e quindi avere indicazioni sul monumento al quale ci stiamo avvicinando. Oltre a questo abbiamo anche scoperto che il nostro percorso è un percorso senza barriere e quindi quest'anno abbiamo invitato alla camminata anche i riders di Pesaro e quindi loro si sono allenati per conto loro però parteciperanno all'evento finale. Da quattro edizioni è un evento che promuove la cultura del movimento, uno stile di vita corretto, un percorso di dieci settimane che si conclude con questa camminata di dieci chilometri. È un percorso che abbiamo visto al quale molte persone hanno deciso di partecipare negli anni ed è uno stile di vita che poi hanno scelto anche di adottare abitualmente. È un po' questo lo spirito, un'iniziativa che vede protagonisti il comune di Pesaro insieme a Movens, insieme a Last, perché tutti abbiamo lo stesso obiettivo, avere dei cittadini che hanno una consapevolezza diversa su quello che può essere la cultura dello star bene nell'anno in cui siamo Capitale Italiana della Cultura. È un progetto importante anche in quest'anno della Capitale della Cultura, anche se parte da lontano. Noi vogliamo lavorare per il benessere dei cittadini, quindi per fare prevenzione. Questo passa dalle attività sportive, dall'alimentazione e dall'attività fisica. In questo momento è molto importante, il comune aderisce e in quest'anno della Capitale della Cultura abbiamo sempre pensato che cultura non fosse solo la cultura dell'arte, ma fosse anche questa cosa qui, la cultura della salute e della prevenzione.